Può e deve destare una certa preoccupazione la possibilità che, date le condizioni di crisi socio-economica, ci sia un inizio di riorganizzazione di bande criminali, determinata anche dal fatto che molti personaggi della mala degli anni scorsi, scontata la pena, tornano legittimamente in libertà, non sempre però rieducati dal carcere. Per gli stessi motivi l'attenzione è alta sui fenomeni di usura e distorsione. Poche denunce, troppo poche, non ci lasciano tranquilli ed è grave che in questi casi ci sia scarsa collaborazione delle vittime. Sono questi i punti salienti della conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, che ha tracciato il consueto bilancio di attività nell'anno solare appena trascorso. Le denunce di reato e le iscrizioni di procedimento sono stabili. L'organico dei magistrati in servizio è tornato ad essere quasi completo, manca una sola unità, mentre le difficoltà avvengono ora dalla carenza di personale civile e amministrativo. Ma andiamo avanti con serenità, ha concluso il procuratore, sebbene gli impegni siano crescenti. Basti pensare alle indagini sui reati ambientali, ha ricordato, che sono cresciute in maniera esponenziale. Non perché, come qualcuno ha detto, ci siamo svegliati solo ora, ma perché sono cambiate le norme, i mezzi di controllo, le procedure. Le nostre indagini proseguono a 360 gradi, senza escludere nessuna delle possibili fonti inquinanti del territorio.